Dal 21 marzo al 14 maggio il Centro Servizi Volontariato Abruzzo allestirà a Chieti, al Museo Barbella, Pescara Laurum, ad Avezzano, nella Sala Conferenza Montessori e a Teramo, nella Sala Espositiva Comunale, la mostra Subtutela Day. Lo scopo è quello di far conoscere al grande pubblico la figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell'Agrigentino, ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. Questo progetto, a nostro avviso, mette insieme non solo gli ideali della giustizia ma in un modo diverso, tenendo presente l'ideale. Quindi la questione dell'essere religiosi è marginale secondo noi rispetto alla mostra, al di là del fatto che poi Livatino è stato fatto beato, quindi chiaramente ha una sua rilevanza. La mostra però dice di come un uomo possa tenere insieme l'ideale e il proprio lavoro senza per questo riuscire a tradire né l'uno né l'altro. E questo secondo me è un esempio molto importante dai giovani perché oggi si pensa che l'ideale non si possa seguire senza dover scendere a qualche compromesso. La mostra prevede un percorso diviso in cinque stanze con testi, video, immagini ed un audio rievocativo. La prima stanza evocherà l'agguato e l'uccisione. La seconda sarà dedicata alla formazione personale di Livatino al contesto sociale ed umano in cui è cresciuto e vissuto, all'educazione familiare e al suo profondo senso religioso. La terza stanza racconterà del giudice, nella quarta stanza si tratterà del martirio e della beatificazione di Livatino e con l'occasione si riferirà anche di Piero Ivano Nava, una persona che è stata testimone chiave dei processi per l'assassinio del giudice. La quinta stanza sarà interamente dedicata all'eredità del grande uomo. Cosa ha significato per lei come curatrice della mostra occuparsi di un percorso così importante, un giudice che dalla sua vita in seguito viene poi beatificato? È stato un incontro straordinario per me, con una figura bellissima che spero possa essere incontrata da tante persone perché ha tantissimo da insegnare a tutti. È stata un'esperienza bellissima.